Musica Ben trovati da Salvatore e benvenuti a Risparmio e Famiglia, l'appuntamento settimanale con la finanza, i mercati, le start-up e le PMI innovative. È un focus dedicato alle start-up innovative, quante sono le start-up innovative nel nostro paese, qual è la variazione settimanale e perché sono importanti per gli investitori. Chiedo alla regia di mostrarci la grafica, sono 13.885, sono in ribasso rispetto alla scorsa settimana, 120 sono ubicate in Basilicata e 631 nella Puglia. Quello dell'andamento delle start-up innovative è una situazione da attenzionare da parte di quelli che sono gli organi politici, per un motivo molto semplice. Dall'inizio dell'anno ci sono 377 start-up in meno. Vediamo come la nostra regione, la Puglia, ne abbia 9 in più dall'inizio dell'anno, ma la Lombardia, che è il primo polo nazionale per numero di start-up, ne ha perse 161, come la Campania, che è il secondo polo nazionale per numero di start-up, ne ha perse... No, chiedo scusa, la Campania ne ha acquisito 52 dall'inizio dell'anno, mentre la regione Lazio ne ha perse 61. Quello dell'andamento delle start-up negative, poi a livello settimanale, c'è una variazione che noi portiamo avanti ed è quella del meno 17 start-up rispetto alla precedente rilevazione. Dove sono concentrate le start-up? Le start-up sono concentrate prevalentemente nel nord Italia. La grafica ci mostra come anche la Puglia in questa settimana abbia incrementato di una unità, mentre la Basilicata ne ha perse 4. Per quel che riguarda le start-up, dove sono ubicate? Sono ubicate prevalentemente nel nord del paese. Nel nord abbiamo il 52% di start-up, la Lombardia è il primo polo con 3.767, poi abbiamo la regione Lazio che è il secondo polo con 1.742 e la regione Campania con 1.462, è il terzo polo nazionale. Le start-up nella nostra regione sono 631. Come sono distribuite? Qui vediamo la grafica di come sono posizionate a livello di percentuale. il 52% nel nord del paese, il centro è presente con il 21% e al sud abbiamo il 27% di start-up. Nella nostra regione ci sono, forse la grafica ci parlerà prima della Basilicata, vediamo la regia cosa ci manda. No, la Puglia, perfetto. La Puglia, in Puglia sono 631 le start-up innovative. Come sono distribuite nelle varie province? Ne abbiamo 334 nella provincia di Bari e Bat, pari al 52, quindi 53%. 149 sono ubicate nel Salento, a Lecce, 23%. La provincia di Brindisi ne ha 44, Tarranto 54 e a Foggia sono 50. Alla stessa maniera possiamo vedere come le start-up nella regione Basilicata siano 120, sono distribuite ovviamente sulle due province. abbiamo quella di Matera che ne ha 22 e Potenza che ne ha Nova Totto. La grafica poi adesso dovrebbe essere terminata, per cui le start-up innovative presentano un vantaggio competitivo per gli investitori. Per quale motivo? Chi dovesse investire in una start-up innovativa, ma anche in una PMI innovativa, che forse la regia ci manda l'ultima grafica, quelle delle PMI innovative che sono presenti nel nostro paese, che sono 2.654, 13 sono ubicate in Basilicata e in Puglia ne sono 112. Riprendendo la questione del vantaggio nell'investimento in una start-up innovativa e una PMI innovative, occorre dire che effettivamente per ogni 1.000 euro investiti in una start-up, una PMI, si ha una detrazione del 50%, ossia di 500 euro. E' tutto per questa puntata di Risparmio e Famiglia, come sempre non perdetevi le nostre pillole quotidiane sull'economia, l'appuntamento con te e per la prossima settimana. Grazie.